Enrico Bletter, i gironi sono finiti, adesso è semifinale contro l'Olanda, con che idee scendi in campo? Questa è la semifinale che volevamo, abbiamo chiuso i gironi in maniera eccezionale, le ragazze hanno giocato veramente una bella partita anche oggi, oggi nonostante che non significasse nulla, però la mentalità era quella di vincere e abbiamo disputato una grande partita. La Russia non è una squadra da poco, l'ha dimostrata ampiamente in questo torneo di mettere sotto squadre molto vuotate, per cui la Nicolina ha tirato veramente una bella partita, sono contento per lei. Alla fine le problematiche di tutta la giornata complicata di ieri non si sono fatte sentire? Assolutamente no, perché la squadra era concentrata su quello che deve fare, andare in campo, scendere in campo, quando gli si dice di scendere in campo, quando gli si dice di non scendere in campo, noi non possiamo assolutamente giocare. Senti, Greta Cecchetti e Marta Gasparotto stanno facendo le sciocche, giocano stasera. E' giusto che si divertino, e niente, sappiamo che l'Olanda è un grande avversario, merita rispetto per quello che ha fatto in questo torneo, ma noi vogliamo colmare questo gap fra noi e loro e vogliamo cominciare a gareggiare stasera, competere e cercare di vincere.